Dopo otto risultati utili consecutivi, Iria Pallanuoto ha perso la partita contro il Gus Ceas con un risultato di 6-5. Siamo rammaricati per la sconfitta, il nostro approccio alla partita non è stato perfetto e a mio parere è mancata un pizzico di cattiveria agonistica, è il commento del capitano della squadra Alessandro Aschei. Forse dopo la vittoria, nella prima giornata di campionato, ci siamo un po' seduti e in uno sport come la Pallanuoto non te lo puoi permettere. È giusto avere fiducia nei propri mezzi ma mai sottovalutare un avversario o prendere una partita sotto gamba. Ci siamo svegliati tardi e dopo essere andati sotto di tre reti, nel quarto tempo di partita abbiamo alzato i ritmi e siamo arrivati a sfiorare il pareggio nei secondi finali. Questa sconfitta è stata uno schiaffo per noi atleti e per il mister, assicura Aschei, che ci sveglierà e ci farà tornare la grinta e la concentrazione che ci hanno sempre accompagnato. Ecco gli highlights della partita. Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.